Le fiamme gialle di Salerno hanno scoperto nei comuni di Ponte Cagnano e Monte Corvino-Rovella tre esercizi commerciali che si approvvigionavano di corrente elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica. I finanzieri hanno riscontrato la flagranza dei furti di energia elettrica realizzati attraverso sofisticati sistemi di bypass che consentivano di utilizzare l'elettricità senza che ne fosse rilevato il consumo dai relativi contatori. Si tratta di un ristorante a Ponte Cagnano e di Due Barra-Monte Corvino-Rovella. Nel primo caso i militari hanno accertato che ad essere regolarmente collegate al contatore erano le sole luci della sala, mentre gli elettrodomestici industriali erano allacciati direttamente alla rete pubblica. Negli altri due casi i titolari erano ricorsi al classico sistema delle calamite posizionate sulla parte superiore dei contatori. Il mancato introito stimato per la società di gestione della rete è di oltre 160.000 euro negli ultimi due anni. I titolari delle attività sono stati denunciati a piede libero alla procura per il reato di furto aggravato di energia elettrica e rischiano pene fino a sei anni di reclusione.